Noi ci siamo trovati in una situazione in cui i governi precedenti, secondo me sbagliando ma ormai è un dato di fatto, non sono intervenuti sul sistema delle banche. Mentre in tutti gli altri paesi europei si interveniva e come se si interveniva, la Merkel ci ha messo 247 miliardi di euro, noi abbiamo scelto di non intervenire, si è fatto un piccolo intervento sui cosiddetti Tremonti Bonds che poi hanno portato più soldi in cassa perché quindi non sono una spesa alla fine, non sono state una spesa, ma non si è toccato niente. Cosa ha fatto questo governo? E la mia gratitudine va al ministro Padone, a tutti i suoi collaboratori e naturalmente agli altri ministri e membri del governo. Uno, ha risolto la questione delle banche popolari, attesa da decenni il governo con Ciampi ministro e Draghi direttore generale non era riuscito a fare quello che ha fatto il ministro Padone, gennaio 2015.